Registriamo un video così ma così a casuale e soprattutto una cosa importantissima, molto importante che in pratica io voglio dire le altre cose molto importanti che purtroppo in questi giorni stanno uscendo pochi video miei e poi quelle cose che faccio sempre tutte le volte che faccio dei video buoni ma non escono sempre dei video sempre tutti i giorni però purtroppo perché non riesco a uscire tanto con la bicicletta quindi ne escono pochi poi soprattutto una cosa sto installando un altro cosa di editing speriamo di riuscire a fare dei editing abbastanza buoni quindi poi questo video lo sto facendo adesso perché così almeno faccio un video con una telecamera un po' diversa ma posso usare una telecamera esterna o qualcosa di strano diverso quindi uso questa qui non posso usare la solita questa perché purtroppo se vedete non c'è la sd però funziona non è che non funziona cioè funziona benissimo guardate però dice questa frase si mette a fuoco scheda assente però quando comprerò due schede sd buone farò l'editing ovviamente c'è farò dei video con quella oppure con la cooper nuova facciamo un altro video ok ce ne sono due di video scusate che non ho detto il nome del mio canale si chiama rando 1987 motori speriamo che si iscrivino molti di più di iscritti che ho perché ne ho purtroppo adesso 44 vorrei che si iscrivino molti di più di 44 iscritti perché 44 iscritti è una cosa banale io voglio che si iscrivino anzi io vorrei che si iscrivino molti di più di quelli che ho adesso attualmente 44 vorrei averne molti di più perché così almeno almeno so quanti iscritti ci sono cioè così almeno sono felice di averne di più di quelli che ho adesso attualmente 44 iscritti perché quelli che ho mi sembrano un po strani da vedere con 44 iscritti a posto di farne così pochi iscritti vorrei a farne un po di più come random 97 che ne ha 200 e passa iscritti poi i video quelli che facevo di una volta che facevo con la chitarra o faccio vedere l'attrezzatura che amplificazione uso che cavi uso non lo faccio più con i stili lì adesso sto facendo stile tipo come applicer che è un youtuber veramente bravo che fa dei video tutorial e scusate che ho vibrato il telefono su telegram vabbè e così almeno voglio che voglio che faccio quel tipo di stile di video perché a me piacciono fare video quel stile lì che faccio tutorial che faccio vedere attrezzi che ho il nuovo telefonino e questo qui lg gappa 11 che è nuovo e poi c'ho anche quello che c'è già ampitec che è google mini poi c'ho un po di tutto c'ho le casse buone ho i led qua sopra che non posso far vedere se faccio così guardate eccoli là vedete questi qua sono i led che ho ovviamente c'ho i led non professionali ovviamente poi c'ho c'ho il microfono lui questo qua è il samson samson metal mic che è un microfono che usa lo usano tutti gli youtubers lo usano tutti gli youtubers ma proprio detto tra noi iscritti lo usano proprio tutti iscritti di youtube che c'è tutti gli youtubers famosi che usano samson metal mic perché è un microfono di altissima qualità un microfono veramente professionale non è un microfono quello che avevo prima che quando parlavi da lontano non si sentiva questo si sente sempre perfetto di volume stesso suono anche se mi sono messo il ho messo il microfono qui qui lontano ovviamente qui lontano perché non uso più l'asta perché non mi piace più usarla quindi devo cercare un'asta che si attacchi qui e tengo il microfono qua come di anno che lo tiene basso ma poi metterò una spugnetta qua sopra così che fa una voce un po più bella e più impulita spero che vi sia piaciuto il video iscrivetevi nel mio canale attivando la campanellina ci vediamo nei prossimi video e allora spero che vi sia piaciuto tutti i video che ho messo adesso e ci vediamo nei prossimi video iscrivetevi nel mio canale attivando la campanellina perché se no perdete tutti i miei video soprattutto le mie live perché sono felicissimo e mi chiamo random 1987 motori ciao ci vediamo nei prossimi video grandi amici ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.